Il ponte vecchio non basta, il ponte da solo non è sufficiente a diventare patrimonio unesco. A dirlo è stato il Ministero dei beni culturali, a riferirlo è stata la prima cittadina di Bassano, Elena Pavan. Una porta in faccia, metaforica, alla scelta portata avanti da questa amministrazione che ha ignorato l'idea di Rete Veneta, dei cittadini, fra i quali anche l'onorevole Germano Rachella, di proporre una candidatura collettiva che comprendesse, oltre al ponte, una visione allargata del centro storico di Bassano, insomma una cartolina di Bassano che, se spedita col timbro di tutti, probabilmente sarebbe arrivata a destinazione, magari sfruttando anche il filone dei patrimoni palladiani nei comuni limitrofi. Fare rete, fare squadra, concetti che non hanno colore politico né bandiera quando si tratta di tutelare il territorio. Invece, anche stavolta, la scelta di correre da soli non ha portato lontano. Ormai, in questi ultimi tre anni, perché sono tre anni di amministrazione Piavano, le cose che avevamo detto come minoranze sono molte, su molte cose siamo rimasti inascoltati e l'amministrazione e i fatti invece ci hanno dato ragione con il passare del tempo. Gravissima la situazione sull'iter unesco attivato in ritardo, nato da una quereil tra la sindaca e il presidente della regione, dove non abbiamo fatto sicuramente bella figura il giorno dell'inaugurazione del ponte. Lì noi eravamo andati in consiglio comunale dicendo guardate se partite con questo iter tenete presente che c'è un vincolo indiretto su quell'area che non coinvolge solo il ponte. Parole inascoltate e suggerimenti rispediti al mittente dall'amministrazione Pavan, che adesso, in una sorta di mea culpa, apre alla collaborazione con la minoranza. Bisogna tornare a un'impostazione più larga, come avevamo detto noi. Poi scopriamo che al giorno di San Bassiano anche il sindaco dice che a questo punto preso atto che non stanno facendo niente in tantissimi settori, in particolare sui lavori pubblici, il sindaco dice non ci interessa portare avanti i progetti che non sono anche nostri, è importante fare qualcosa. Stiamo attenti perché nel fare qualcosa, quando si fa qualcosa senza nessuna idea, nessun retropensiero dietro, si rischia di fare le cose male.